Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Ardebil 360x164. Gli Ardebil vengono annodati nella provincia di Azerbayán, nella Persia nord-occidentale. Il motivo dei tappeti è geometrico con influenze dei gruppi caocasici. Questi tappeti sono sottili, robusti e belli in modo rudimentale, un po' primitivo. Il formato più usato della produzione odierna è quello a passatoia. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa. 10 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.